Il nostro futuro dipende dal presente. Diamo una prova di civiltà, separiamo i nostri rifiuti. La raccolta differenziata è la strada obbligata per la tutela dell'ambiente. E quest'anno la raccolta differenziata vi consente di vincere fantastici premi. L'amministrazione comunale di Avola invita tutti a partecipare all'ultima estrazione di 28 premi rivolte ai cittadini, agli esercizi pubblici, alle scuole e alle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Non mancate l'8 gennaio 2011 presso il Salone del Centro Giovanile alle ore 11. L'evento sarà ripreso dalle telecamere di Canale 8. La raccolta differenziata fa la differenza e Avola si differenzia.